ola ola dovrei essere in diretta datemi conferma che mi vedete e mi sentite bene magari scrivendo nei commenti benvenuti in quest'altra splendida serata che passiamo insieme sempre un super piacere oggi come ogni mercoledì alle 21 sono sempre qui in diretta per intervistare maggiori esperti italiani di crescita personale spirituale sono degli incontri interattivi quindi in qualunque momento della serata qualunque condivisione senti di fare o domanda senti di porci fallo pure nei commenti saremo super felici di leggerti e di risponderti e arriviamo arriviamo all'ospite di stasera perché anche stasera ho un ospite speciale che è prima comardas consulente di astrologia vedica nella tradizione antica jyotisha eccoci qua namaste piacere di essere con te suri e con tutti i telespettatori che stanno osservando la trasmissione sauton che bello che bello grazie prima benvenuto grazie per esserti uniti a noi in questa diretta super piacere essere qui insieme un piacere anche per me che bello allora per chi non ti conosce appunto come dicevo tu hai lavorato molto nell'ambito della tradizione jyotisha quindi hai iniziato studiando proprio in generale la cultura proprio filosofica indiana a 360 gradi noi vedalo yoga il bacte yoga la meditazione poi sei approdato nel mondo dell'astrologia vedica sia secondo la tradizione jyotisha secondo la tradizione specifica jyotisha parampara dell'orissia che è un lineaggio veramente antichissimo autentico che era quasi considerato istinto potremmo dire hai studiato questa disciplina in diverse scuole di fama internazionale diversi lineaggi autentici oggi lavori con su come consulente d'astrologia vedica insegni filosofia dello yoga anche meditazione presso diversi yoga teacher training in italia noi abbiamo diverse conoscenze in comune conosco personalmente anche appunto il pandita san gerat sa moglie sarbanirat come parlavamo prima che sono tra i maestri principali appunto che ha avuto ecco qui posso dire veramente che siamo dei buoni amici ormai io la trovo una disciplina meravigliosa da oltre dieci anni mi appalgo di queste consulenze quindi è veramente molto 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 utile la trovo anche per questo ti ho voluto fare ti ho voluto intervistare far conoscere questo mondo che ha tanto da dare veramente a chi è sinceramente interessato proprio la propria crescita interiore quindi andi iniziamo andiamo nel dunque di questa astrologia vedica jyotish no che è diversa da qualunque altra forma di astrologia che io ho mai provato perché ne ho provate tante nella mia vita dal basi cinese al human design all'astrologia occidentale lo zodiaco non ho provate tutte però veramente il livello di dettaglio che raggiunge l'astrologia vedica io non l'ho mai visto nessun'altra tradizione astrologica quindi iniziamo da parlare un po' di come funziona cos'è esattamente l'astrologia vedica jyotisha nello specifico e cosa di diverso dalle altre forme di astrologia come per esempio lo zodiaco occidentale mi trovo da dire che magari è il più conosciuto certo grazie suria tra l'altro il tuo nome è un nome astrologico perché indica il sole che è proprio diciamo quelle quell'astro che da luce e jyotish vuol dire proprio luce e la cosa interessante del jyotish ci sono tante differenze probabilmente con gli altri sistemi che hai menzionato ma allo stesso tempo tante analogie perché ho scritto un articolo una volta che riguarda proprio l'origine dell'astrologia e facendo degli studi si può capire che in qualche modo l'astrologia vedica quella del rig veda narrata del rig veda con le nacciatre i segni eccetera eccetera sia in qualche modo l'origine dell'astrologia poi i sistemi astrologici si sono mossi sono nati io le chiamo due due gemelli separati alla nascita noi in cui un'astrologia è rimata è rimasta in madre terra in madre india l'altra astrologia è passata per la grecia per gli elleni per gli arabi no hanno anche gli arabi avevano un patrimonio astrologico incredibile per i babilonesi e così via fino ad arrivare in occidente dove dovuta passare per il medioevo ad esempio no e noi sappiamo che medioevo inquisizione richiedevano di a queste arti a queste scienze di nascondersi diventare ermetiche quindi perdere anche quella semplicità quelle tecniche che erano all'aperto diventando ermetiche praticamente venivano nascoste quindi in qualche modo e solo alcune persone potevano saperlo però sempre di nascosto e piano piano si è perduto in qualche modo quelle conoscenze antiche quindi da un certo punto di vista potrei dire si è diversa dalle altre astrologie dall'altro possiamo dire che sono sorelle una che è rimasta a casa l'altra che ha vissuto magari delle difficoltà e che si è dovuta nascondere ha perso un po la sua natura quindi io la vedo così la vedo integrata la cosa ecco se uno vuole tornare alle radici dell'astrologia proprio quella antica quella dei risci quella dei grandi saggi ecco l'astrologia vedica è proprio quella più antica quella più radicale l'essenza in qualche modo usa un sistema diverso ad esempio probabilmente a quello ti riferivi che il sistema siderale però anche varie astrologie moderne stanno utilizzando lo stesso sistema utilizzato nell'astrologia vedica esempio c'è l'astrologia karmica che utilizza lo zodiaco siderale che è lo stesso che si usa nella astrologia vedica e cos'è lo zodiaco siderale come si differenzia da quello tropicale è molto semplice lo zodiaco siderale è in qualche modo lo zodiaco dei pianeti che si vedono nel cielo cioè se uno prende un cannocchiale e guarda dov'è il pianeta adesso che ne so il sole o dov'è la luna in che costellazione è esattamente quella che si disegna nella carta astrologica vedica mentre lo zodiaco occidentale quello tropicale è in qualche modo una costruzione matematica in cui l'ariete parte dai solstizi e degli equinozi i solstizi e le equinozi quindi le stagioni sono quelle che fanno partire i quattro segni basilari che sono nell'asse che partono dal dall'ariete bilancia e cancro capricorno che sono un po la croce che corrisponde da un punto di vista tropicale ai solstizi e gli equinozi che sono quando notte giorno gli equinozi sono quando notte giorno sono uguali e i solstizi quando invece predomina il giorno predomina la notte ecco questi due zodiaci erano corrispondevano più di duemila anni fa quindi a un certo punto questi zodiaci continuano a sfasare fra di loro si muovono e questo movimento è dovuto alla rotazione dell'asse terrestre che gli antichi vedici conoscevano conoscevano il fenomeno fisico della precessione degli equinozi che è proprio il movimento di questo asse che fa shiftare l'ariete vero dalla riete tropicale cioè dai solstizi degli equinozi e questo avviene come una sorta di oscillazione i vedici avevano un fattore che era in grado di calcolare questa oscillazione basandosi sulle stelle fisse quindi avevano una grande conoscenza anche astronomica quindi potremmo dire che l'astrologia vedica un po come se muta con la natura se sto capendo bene col mutare della della diciamo del cielo nei secoli nel tempo mentre come se l'astrologia invece il sistema astrologico occidentale è più fisso cioè è rimasto a quel sistema che era duemila anni fa e lo mantiene sempre uguale in qualche modo approssimando a meno questa è la sensazione che ho esatto e questi due zodiaci in qualche modo si venivano conosciuti erano conosciuti anche nell'astrologia vedica ma lo zodiaco siderale quello che si usa nell'astrologia vedica l'astrologia vedica dice jyotish dice si usa per le persone mentre lo zodiaco tropicale si usa per le cose e questo rappresenta un po in qualche modo il trend moderno di vedere l'individuo non come un triangolo in cui ha una base corporea sopra a questa base c'è la base psicologica psichica e sopra ancora c'è la vera essenza che in alcune tradizioni si chiama anima in altre si chiama atma in psicologia si chiama il sé superiore e così via ecco è come se la cultura moderna e quindi l'astrologia segue un po lo stesso trend stia utilizzando uno zodiaco che si usa per le cose perché modernamente l'essere umano è diventato una cosa è diventato prevalentemente una cosa e viene visto in questo modo lo vediamo con la medicina ad esempio l'uomo diventa come una macchina meccanica che è vero il corpo è così in cui si toglie un organo si mette l'altro si aggiusta in un modo e si perde in qualche modo tutto quello spessore psichico e spirituale che l'essere umano ha e che poi persone anche come te suria cercano di far uscire fuori dalle dalle persone non questo lato più più umano più divino più più spirituale più consapevole più consapevole certo e quindi questo penso che sia un punto filosofico che sta alla base dell'uso dei due zodiaci anche connesso al trend di come nell'antichità si vedeva l'uomo o la donna come un essere divino un essere superiore un essere con un enorme potenziale l'atma è come suria e come il sole che splende e il corpo è semplicemente un involucro di questo semplicemente un involucro importantissimo un mezzo importantissimo ma non è tutto l'individuo l'individuo è molto di più perciò nell'astrologia vedica utilizziamo lo zodiaco siderale che vede l'essere nella sua essenza e poi ne vede il corpo e la psiche perché ovviamente quello è importante l'astrologo generalmente no è proprio il livello di dettaglio in cui riesce ad andare in ogni ambito della vita devo dire questa è la cosa che a me ha colpito più di tutte la prima volta che ho fatto una lettura vedica normalmente l'astrologie rimangono più in gene in generale ecco quindi quando anche l'astrologia zodiaco si ti può dire delle cose però rimane più generale nella vita ecco il livello invece di veramente di informazioni specifiche che in grado di dare l'astrologia vedica e non anche nelle cose pratiche quindi da quelle più spirituali ecco più complesse evolute a quelle più normali mi ricordo mi colpì molto perché non l'avevo mai visto prima è così chi approccia l'astrologia vedica deve mettere in conto uno shock culturale perché perché ti mette davanti il tuo karma ti mette davanti la consapevolezza che la vita in qualche modo segue un non dico che è stata scritta perché sarebbe banale e anche non corretta perché io dico sempre la vita la carta astrologica è come un contratto che ha tante clausole non è un contratto statico bloccato ha tante clausole cioè se tu fai quello il contratto ti dice ok ci sarà quella cosa che devi pagare no no se se tu invece rispetti questi canoni no quella cosa non la devi pagare no e quindi ci sono cioè ci sono i margini che sono in queste clausole ma è come un contratto no quindi c'ha dei pattern delle situazioni che si manifestano nella tua vita e vedere che che non è tutto a caso ma anzi c'è un ordine veramente dettagliato preciso che poi è per il nostro bene poi è per il nostro bene per la nostra crescita e per la nostra evoluzione ma è come se nel momento della nascita determinate prove determinate situazioni determinate esperienze siano già preventiva sono già in scaletta diremmo no come ad esempio suria immagino ha delle domande in scaletta ma poi c'è il flusso no della vita le scelte mie le scelte sue che magari cambieranno questa scaletta però c'è un c'è una linea guida no e quelle con l'astrologia medica si può capire molto bene come strutturata questa linea guida lasciando all'individuo la possibilità di poter scegliere quelle clausole che migliorano ed evitare quelle che invece vanno a peggiorare questa questa scaletta diciamo no bellissimo è sempre dato infatti questa è beh molto bello quello che hai detto no che effettivamente in qualche modo ti aiuta a dare anche un significato l'esperienza che hai vissuto nella tua vita e questo è bellissimo io l'ho trovato come un grande regalo no dell'astrologia soprattutto quando poi le conferme perché ti racconta la tua vita con una precisione tu dici ma questo ci siamo appena conosciuti non ci siamo mai visti prima eppure mi sa dire qualunque cosa della mia vita allora io dico ok c'è c'è qualcosa di più profondo qui che magari va al di là di quella che è la nostra mente logica lineare che cerca di spiegare sempre tutto eppure questo senso no che ti riesce a dare che anche direi a pacificarti ecco con l'esperienza della tua vita che ho sempre un regalo grande e questo è ancora più importante a livello evolutivo personale dare un senso no perché noi nella vita viviamo dei traumi delle situazioni difficili ad esempio no e molto spesso siamo abituati a vederle un po come sai dal nulla è arrivato qualcosa che mi ha ferito mi ha fatto del male e ed è difficile vedere spesso il senso però se noi non ne vediamo il senso non lo contestualizziamo non ci diamo una ragione il processo di rielaborazione di un trauma o di una difficoltà o che ne so di un par di un partner diciamo relazionare con i propri genitori rispetto che può essere complicato da vedere quindi quello può essere molto utile vedere il passato dare un senso a questo passato penso che sia anche io penso che sia uno dei regali dell'astrologia vedica poter vedere il passato con un senso con un senso profondo no vedere che niente a caso vedere come c'è un continuum dove le prove portano verso degli insegnamenti fondamentali perché il karma una volta che abbiamo acquisito quegli insegnamenti ci lascia stare in quell'ambito no ci diventa più blando diventa più leggero e noi cresciamo in questo cammino siamo esseri in cammino e quindi l'astrologia vedica è un mezzo è uno dei mezzi che può essere utile per avere una direzione dove andare vedere una direzione dove andare esatto anche molto bello anche se così ti appunto di fare pace col tuo passato però prepararti anche al meglio il futuro quindi che alla fine scapendo anche questi partner no la tua storia capisci anche al meglio come puoi prepararti e che direzione dove stai andando nella vita no bellissimo tu sei anche alla fine un ricercatore spirituale un praticante spirituale anche e questi sono alcuni dei benefici quelli che abbiamo detto non so se ti vengono in mente altro di quali possono essere i benefici maggiori magari che si riceve dall'astrologia in un percorso di crescita personale spirituale dell'evoluzione interiore certo allora penso che ci sia un altro beneficio che vedo nelle persone ovvero come ti ho detto io mi sono prima approcciato la filosofia perché ero sempre interessato anch'io alla crescita personale quindi in qualche modo a capire come migliorarmi soprattutto a volte il primo passo è quello c'è qualcosa che non va nella mia vita no c'è qualcosa che stona troviamone un senso non troviamo una motivazione miglioriamo la mia vita quello molto spesso è uno starter no del percorso e così anch'io ho iniziato a studiare la filosofia proprio indiana quella vedica e è stata per me veramente una realizzazione quando ho iniziato a vedere tutto sotto la teoria del karma per tutto in qualche modo dava anche un senso alle ingiustizie tra virgolette no non che le ingiustizie siano giuste ma viste in un'ottica più ampia no anche il dolore anche la sofferenza se è in un percorso di evoluzione in cui io sto imparando prendo un senso non dico che sia bella no perché la sofferenza non è mai bella la violenza non è mai bella no sono cose estreme ma sappiamo che sono un gioco sono un gioco di energie sono un insegnamento che arriva e quando ho approcciato l'astrologia vedica quindi quando iniziato a interessarmi quella teoria che era teoria tipo assi causa effetto se tu fai una cosa ti ritorna è diventato una pratica diventato qualcosa di veramente pratico perché iniziava a vedere nella vita delle persone nella mia vita prima di tutto e nella vita delle persone come questa legge del karma si stesse manifestando i pianeti semplicemente spiegano come si manifesta spiegano come come avviene questa legge come si manifesta nella vita personale di un individuo e io penso che possa questa questa esperienza questo a volte uno shock come abbiamo detto prima scherzando e non perché a volte può essere veramente uno shock vedere la propria vita davanti a sé ma è anche una spinta a vedere che c'è un ordine superiore e penso che spiritualmente questo sia proprio può essere veramente un punto di partenza una ricerca più profonda si esce fuori da questo indottrinamento forse che abbiamo avuto che noi siamo pezzi di carne biologici finiamo quando il corpo finisce no quindi siamo questo dobbiamo un po' arrabbattarci nella vita sgomitare per cercare di sopravvivere poi molto spesso no e questo è il punto quindi è molto grama la vita così e vedere che c'è molto di più può aprire la porta a nuove considerazioni che possono essere proprio un inizio di un percorso di crescita allora non sono solo quello forse c'è qualcosa in più da esplorare da scoprire da conoscere ecco questo potrebbe essere secondo me uno delle almeno spiritualmente parlando chiaro che le persone generalmente si approcciano per un bisogno materiale per che ne so un'area della vita che va male no per cercare di migliorare quell'area della vita ma come si può dire e a volte si dice che i veda siano come un albero dei desideri tutti avvicini a quell'albero dei desideri ottieni quello che tu vuoi non tu vuoi che ne so trovare casa ti avvicina all'astrologia e veda e avrai delle informazioni che ti aiuteranno in quella direzione ma siccome quell'albero dei desideri può soddisfare tutti i tipi di desideri come ci arrivi vicino comunque qualcosa di spirituale ed evolutivo ti arriva no diventa un seme magari no magari non è quello di cui parleremo in una consulenza ma sicuramente un seme ti arriva e quel seme magari tra dieci anni tra vent'anni o magari anche prima quando diventi pronto no a ad aprirti a una consapevolezza maggiore quel seme è stato impiantato è là e può germogliare in qualunque momento bellissimo molto bella bella visione sì 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 molto bella e diamo un pochino più nel pratico secondo me adesso quindi come funziona una sessione diciamo tu in una sessione leggi quella che è la carta natale potrebbe chiamare questa carta natale esattamente cos'è come fai tu a creare una carta natale di che informazione hai bisogno cos'è questa carta natale è molto semplice perché ci sono fortunatamente i software adesso prima gli astrologi la disegnavano a mano era tutto un lavorio e basta mettere i dati in un software che disegna la carta e quindi cosa serve la data di nascita all'orario di nascita il luogo di nascita perché cambia il sorgere del sole il tramonto sappiamo tutti no che il tramonto a singapore è un orario diverso dal tramonto e quindi cambia l'ascendente quindi serve il luogo di nascita l'orario di nascita è fondamentale e basta queste sono le informazioni base chi vuole di solito chiedo se vuole dare qualche informazione specifica soprattutto se non si è sicuri dell'orario che ne so qualche evento così che posso preparare vedere se c'è da fare qualche correzione nella carta perché purtroppo non è detto che l'orario sia giusto c'è anche quello segnato anche quello segnato all'ospedale un 15 minuti di errore ci possono sempre essere per qualunque motivo e la rettifica è una delle operazioni che deve fare l'astrogo deve vedere un attimo se la carta combacia con la persona quindi fa delle domande e cerca di rettificare la carta quindi basta questo poi io di solito faccio delle sessioni da un'ora un quarto o due ore quindi di solito è più di solito di quelle che si fanno normalmente perché mi voglio prendere come stavamo dicendo prima mi voglio prendere lo spazio per conoscere la persona per assicurarmi che la persona abbia capito e che la sessione sia evolutiva per la persona e come ti dicevo voglio che la persona esca fuori carica dalla sessione cosa vuol dire carica che che ha in mano la sua vita no sa dove agire non è depressa perché ha delle informazioni che non gli piacciono ma sa che la deve agire e che può mettere la sua energia per cambiare il suo destino ecco questo è voglio che la persona esca così quindi anche quando ci sono brutte notizie diciamo e comunque con le nostre azioni possiamo cambiare la situazione possiamo trasformare possiamo essere astenti possiamo la persona può veramente fare qualcosa e io voglio che si focalizzi su questo bellissimo bellissimo ma molto bella anche quest'idea appunto che di molto costruttiva ecco a volte io quello che è il dubbio principale che vedo quello più spesso nelle persone quando si proprio si approccia all'astrologia hanno quasi un po di timore no perché la vedono dicono ma questa cosa adesso mi dicono una cosa che poi si deve avverare per forza la vedono come un macigno le viene messo sulle spalle e poi se lo dobbiamo portare tutta la vita è quasi un po di passività no come se ti ti allontana dalla responsabilità della tua vita di prendere le tue decisioni ecco invece questo per me è un enorme fraintendimento molto bello esatto esatto togliere dalla persona la responsabilità delle proprie azioni è la cosa più grave che si può fare perché l'unica cosa che abbiamo è la responsabilità delle nostre azioni l'unica cosa di cui dobbiamo dar di conto se a qualcuno dobbiamo dar di conto di qualcosa sono le nostre responsabilità quindi la comprensione delle nostre responsabilità la comprensione della nostra possibilità di agire di cambiare è fondamentale e altrimenti dov'è più la crescita se io subisco il destino se io subisco passivamente il mio destino dov'è il mio margine di crescita no non so a me piaciuta tanto alla divina commedia e perché a questi a questi tre livelli inferno purgatorio e paradiso che per letture più moderne sono stati di coscienza l'inferno è lo stato di coscienza di tipo paolo e francesca no che non evolve perché maledetto il libro chi la scrisse no la colpa è degli altri qui se la colpa degli altri io non miglioro perché aspetto che gli altri migliorino no questo è l'inferno quindi è non prendersi le responsabilità vuol dire soffrire senza aver mai la possibilità di cambiare perché penso che il problema siano gli altri la situazione o in questo caso il mio destino capito che qualcuno mi ha pioppato dall'alto dal basso da chissà dove il purgatorio invece che è l'inizio del percorso di evoluzione di crescita e io mi prendo la responsabilità delle mie azioni e mi miglioro e mi miglioro e cresco e poi il paradiso sarebbe quando una persona aria ha avuto delle importanti realizzazioni ed è in armonia con l'universo la chiaramente la persona sperimenta una gioia o una una connessione una profondità ecco se arrivano persone che hanno una mentalità e su uso questa terminologia da inferno noi dobbiamo aiutarle a passarle quantomeno al purgatorio no ok ma questo è proprio il possiamo dire il quando una persona vede che la colpa degli altri quando la colpa delle situazioni quando la colpa dei pianeti e se la colpa loro devono cambiare loro capito non devo cambiare io si perde tutto e si perde ogni cosa praticamente molto importante molto importante molto fondamentale in realtà anche per trarre beneficio da una pratica come questa dell'astrologia è importante che tu non appunto che una persona non la vede come una descrizione fissa non le arriva questa descrizione qual è la sua vita io l'ho sempre immaginato un po come se l'astrologia ti dà una descrizione orizzontale ecco la tua vita potrebbe essere così le queste sono le cose che potrebbero accadere però poi c'è tutta una dimensione verticale di un lavoro che tu puoi fare su te stesso che effettivamente ti fa cambiare tanti pezzettini che magari come si dice nella spiritualità bruci il karma e se bruci il karma non ti avvera più e via reale e buffa questa cosa per vero è tanto visto quante dinamiche no che riconoscevo della mia vita dove sarebbero potute andare ecco come poi non ci sono più avverate perché comunque tu non reagisce più in un certo modo le circostanze ai domato certi difetti caratteriali e qui alla fine certe cose non si avverano magari quei certi errori che avresti fatto non li fai più alla fine naturale se ci pensi anche logico no è così sono come quelle clausole di cui parlavamo che se uno agisce in un modo sai molto spesso diciamo che c'è un karma fisso un karma mobile e un karma duale che è semi mobile diciamo quindi abbiamo un karma fisso sono cose che in questa vita non si possono cambiare esistono delle cose ad esempio il mio corpo è quello no se io ho una malattia genetica sai è difficile eliminarla no e fa parte dei geni fa parte di una parte profonda poi c'è un karma semi mobile che invece posso cambiare lavorando duramente ed è quello più importante perché è proprio quello che mi può dare le più grandi soddisfazioni e poi c'è un karma mobile che invece cambia con i periodi della vita no quindi c'è un certo periodo poi non ce l'ho più in un altro periodo ora l'approccio e l'invito dell'astrologo dovrebbe essere questo col karma fisso accettalo è parte della tua vita nell'accettazione non è passiva e utilizzalo utilizza quello scompenso no non focalizzarti là ma utilizzano per crescere no per per evolverti fanne un buon uso di un cattivo gioco di un cattivo affare no così per il karma è così meglio no se ci fai pace puoi fare del tuo meglio se ci fai pace poi la mente è tremenda perché si concentra proprio sulle cose che non possiamo cambiare no molto spesso quindi anche è un esercizio per la mente portarla invece dove al massimo beneficio che il camera semi mobile perché la lavorando sforzando ci possiamo cambiare veramente quel tipo di carlo quindi andando la lavorare in quel karma semi mobile la abbiamo il massimo del risultato il karma mobile a volte va e viene sai è diverso non lo puoi accettare tanto passa o no è un periodo e così via quindi anche riconoscere in qualche modo che aria della vita sono cristallizzate cristallizzate sempre da una prospettiva evolutiva non sono cristallizzate nel senso che io le devo subire mi devo autofrustare no su quell'aspetto qua ma invece è proprio quella parte in cui se io ci faccio pace lo risolta non è non è più un ancora ma diventa una una risorsa diciamo una possibilità di crescere un trampolino importantissimo bellissimo sì 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 bello 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 c'è una domanda di giustamente penso che molti magari se lo stanno chiedendo di valentina se non ho l'ora di nascita non si può fare penso quella è una classica domanda di una persona che magari non sa l'ora è qui nata come funziona valentina potrebbe essere un consiglio allora generalmente la maggior parte delle persone basta che vanno al comune prendono l'estratto di nascita non il certificato di nascita ma l'estratto di nascita è una un orario bene o male lo beccano c'è di solito sono i casi più rari che ne so i casi di adozione i casi io penso che se valentina vai al comune probabilmente trovi il certificato di nascita magari tu non lo sai ma nell'estratto di nascita trovi la data e si risolve così molto spesso allora altrimenti esistono delle tecniche però quelle si ricorre quando non si riesce a ottenere facilmente andando al comune eccetera eccetera ci sono delle tecniche in cui esempio la tecnica prajna che una tecnica a cui si risponde alle domande ed eventualmente ci sono anche delle tecniche per si chiama lost oroscopi ovvero trovare gli oroscopi perduti però la cosa più semplice è procurarsi l'orario è veramente a meno che non ci sono situazioni particolari deve essere che uno è nato in casa sai e che ne so è la condizione non ha permesso che il padre o un parente andasse al comune a registrarlo oppure un'adozione oppure sai ci sono situazioni sì tipo valentina dice io sono nato in romania quindi magari è una situazione dove non è semplicissimo andare a recuperare l'orario per romania a volte basta chiamare il comune anche la proprio adesso anche col col le situazioni di blocchi eccetera eccetera molto spesso basta anche semplicemente chiamare per ricevere l'orario consiglio quello perché altrimenti la procedura abbastanza dispendiosa è più semplice avere almeno una base magari non è precisissimo quello della romania magari un orario scritto però è già un punto di partenza in cui noi poi dobbiamo scegliere magari tra due ascendenti è una cosa molto più fattibile che andare a scegliere tra dodici ascendenti certo ok anche bello 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 molto utile se ti dovessi chiedere non lo so quali possono essere anche gli ambiti in cui può essere più utile una consulenza astrologica quindi quali domande magari si possono porre quali possono essere le informazioni più interessanti che si possono ricevere non lo so esempi pratici che possa essere utile a qualcuno per farsi un'idea ecco dell'esperienza che si fa quando si fa una sessione astrologica allora le domande sono pressoché infinite perché abbiamo dodici case e altrettanto e tante altre carte divisionali e ogni casa rappresenta un'area della vita quindi l'astrologo va poi a guardare nella carta quell'area della vita e come si sviluppa diciamo le aree quelle più comuni sono il lavoro ovviamente la casa 10 e tutto ciò che è connesso la carriera e le relazioni di coppia ovviamente a livello personale ma anche le la comparazione tra due carte per vedere la compatibilità anche qua nel discorso della compatibilità e generalmente le persone che vengono in occidente a fare la compatibilità sono persone che stanno già insieme invece in india sono persone che ancora stanno pensando che forse staranno insieme quindi un altro è un altro tipo di approccio perché l'astrologo indiano generalmente dice no guarda non state bene invece così mentre in occidente non puoi fare così ovviamente perché due persone stanno già insieme quindi la compatibilità è aiutare le persone a stare più in armonia insieme e cercare di superare le difficoltà no è un approccio diverso diciamo in india i matrimoni venivano combinati no quindi veniva utilizzata l'astrologia per vedere se le due persone matchavano cioè erano compatibili e quindi no sì no sì capite si chiudeva così no mi dispiace è un po più complicato esatto si è sposato da anni esatto viene una coppia sposata da 15 anni dice no mi dispiace non siete compatibili mi dispiace e quindi ovviamente è un approccio diverso quindi le relazioni sono un punto importante che ne so può variare veramente da tanti aspetti della vita ci sono persone che addirittura mi chiedono a livello spirituale ad esempio no evolutivo no qual è la lezione della mia vita qual è la direzione no per capire un po la motivazione un po più profonda non un senso nella vita ognuno di noi ha il suo senso nella vita la sua direzione no quindi anche questo per chi è più magari nei percorsi spirituali questi sono campi di interessi maggiori ti devo dire la verità che maggiormente le persone che che mi chiedono consulenze forse sono le persone che attraggo io di solito o sono in un percorso spirituale o sono comunque molto aperte sono molto aperte generalmente e questo non è non sono tutte così ovviamente ma molte ho la fortuna che in qualche modo arrivano persone che hanno già l'idea di evolvere di progredire così posso sempre lasciare comunque qualche piccolo qualche piccola direzione anche da un livello evolutivo spirituale in questo senso ma generalmente ovviamente chi va dall'astrologo non sta andando dal maestro spirituale no non sta andando quindi è chiaro che va per motivazioni pragmatiche perché è per quello che si usa l'astrologia ma il bello è che chi ha già una una visione spirituale o comunque evolutiva trova che questo questo pragmatismo gli viene impacchettato comunque in una direzione uguale c'è nella stessa direzione evolutiva e quindi che non capito va indietro invece no certo e questo penso che sia importante penso che sia importante o almeno quello che io reputo che l'aiuto pragmatico non prenda strade che portano la persona a devolvere ma ad bello queste sono alcune piccole riflessioni bellissimo penso che più o meno ti dà un'idea della vastità ecco delle cose che si possono chiedere sicuramente alla fine le vite di ognuno sono così singolari perché siamo tutte persone diverse abbiamo sensibilità diverse situazioni di vita diversi ho visto negli anni ho consigliato l'astrologia a tante persone quindi ho visto tante persone fare sessioni e avere le dinamiche le domande più disparate dal rapporto con la famiglia al lavoro alle scelte da prendere a dove vivere hai veramente può essere dalle più pratiche alle più complesse come dicevi tu nomi mi viene a dire anche le più ecco come dicevi prima quali lezioni devo trarre da questa esperienza qual è il senso della mia vita insomma sono possono essere domande più profonde a quelle proprio più pratiche devi prendere una scelta la prossima settimana che può essere così io penso successo sia quando entrambe coesistono nella stessa sessione esatto quindi quando la parte pragmatica che quella importante nel momento è in armonia con invece lo scopo superiore della persona nel suo viaggio infinito nel suo viaggio interiore ecco quando le due cose non dico che combaciano ma vanno a racconto quindi nella sessione si vede si risponde a tutte quelle domande che servono per la pragmatica il modo pragmatico di affrontare la vita pratico di affrontare la vita e tutto questo lascia proprio un gusto che si sta andando nella direzione giusta nella direzione di evoluzione ecco quello secondo me è il successo che meraviglia meraviglia ci hai detto tantissime cose interessanti stasera io ti ringrazio consiglio anche di riascoltare la registrazione di questa intervista domani perché veramente come ho detto c'è tante informazioni di valore e sera sono quasi le 10 quindi a volte non è facile trattenere tutte le informazioni che ci vengono dette quindi però ci hai dato sicuramente un quadro abbastanza completo poi come tutte le cose alla fine ne devi fare esperienza ne puoi parlare alla all'infinito ma capire cos'è come funziona veramente la lettera astrologica la devi fare poi vedere quello delle cose che ti vengono dette a livello pratico nella tua vita e come dicevi prima effettivamente quasi è scioccante cioè renderti conto che una persona da una cosa scritta sulla base del tuo orario di nascita ti sa dire così tante cose della tua vita inizia a porre delle domande serie esistenziali no perché è vero è vero incredibile l'astrologia vedica quindi io assolutamente ti ringrazio ti ringrazio tantissimo veramente tantissime cose interessanti anche le informazioni storiche che è data all'inizio pure interessanti sull'astrologia occidentale l'astrologia indiana le connessioni ma alla fine è interessante io sono appassionato di scoprire come tutte le cose effettivamente derivano sempre dalle stesse radici proprio una cosa che mi appassiona su questo mi manca poco qualche altro anno se ci arrivo veramente a riuscire a dimostrare che tutto deriva dai sumeri perché poi alla fine sono convinto che tutto deriva da là a grande linea dei sumeri poi gli egisti da un lato verso occidente verso oriente vengono tutti da là quindi quando ci sono tanti studi interessanti su questo che sto analizzando quando si arriva è anche l'astrologia sono convinto che quelle sono le radici sono sempre le stesse quando le vedi alla fine riconosci certi pattern certe dinamiche che sono sempre quelle che sono dell'essere umano proprio della saggezza antica dell'essere umano che è quella non c'è niente da fare io veramente quindi ti chiederei come si fa a questo punto perché penso che la domanda che tu teni in mente è come si fa a seguire il tuo lavoro come si fa a restare con te come si fa a fare una sessione astrologica con te se qualcuno la volesse fare grazie suria e anche di tutto quello che hai detto prima adesso allora per quanto riguarda c'è semplicemente il mio sito yoga delle stelle puntocom anzi nel sito c'è anche una mini guida che si può scaricare dove spiego un po alcuni dettagli sull'astrologia che pianeti si usano che carte si usano e così via così che anche chi non ha conoscenza non ha ancora approcciato possa avere un un'idea insomma di cos'è l'astrologia vedica e come si differenzia anche da quello occidentale e così via e nel sito c'è anche la possibilità di fare un form dove richiedere una consulenza e ho anche creato un un report perché come sai suria sono anche ingegnere delle telecomunicazioni e ho creato un report astrologico sul pianeta del destino che è il pianeta è uno dei pianeti più importanti della carta e questo di solito lo consiglio a chi è proprio lontano fuori da dall'astrologia vedica perché ha un primo assaggio su un aspetto però è un aspetto fondamentale della persona dell'individuo e quindi attraverso il sito si può accedere a tutti i lavori che che sto facendo che sto tra cui le consulenze astrologiche perfetto benissimo yoga delle stelle puntocom perfetto l'ho scritto qua quindi se io fantastico ottimo ottimo comunque chiunque può andare sotto sito rimanere in contatto con te poi oggi mi sa dire che nell'epoca dei social è veramente facile rimanere in contatto chiaro cercare il tuo nome di yoga delle stelle abbiamo la yoga delle stelle su facebook e instagram ho anche una mailing list dove mando nozioni di astrologia se c'è magari adesso ci sarà saturno che diventa retrogrado ad esempio tra qualche giorno quindi sono nozioni che chi ci sta attento non ci guarda e sa che in certi momenti c'è un'energia e quindi sa come anche gestirla e viverla al meglio bellissimo bene bene veramente molto bene veramente è stata una chiacchierata molto bella io ti ringrazio ancora tutte le informazioni che ci hai dato è stato un super piacere averti come ospite stasera grazie mille suria e sono onorato di essere stato con te e sono stato bene mi sono divertito in questa bella chiacchierata grazie di tutto quello che fai grazie anche a tutti per essere stati con noi stasera questa bella serata che abbiamo passato insieme io vi ricordo che come veramente ogni mercoledì alle 21 sono sempre qui in diretta quindi ci vediamo mercoledì prossimo per chi ci sarà e altrimenti buonissima serata buonissima notte e buonissima cosa a tutti ciao